La circostanza che la Spagna potesse essere uno dei paesi dove si era rifugiato Luca Materazzo arrestato per l'omicidio del fratello era stata già presa in esame dagli inquirenti in seguito ad accertamenti svolti su un computer che l'indagato aveva utilizzato in particolare era emerso che alcuni giorni dopo il delitto Materazzo aveva svolto una ricerca su internet relativa a località nella zona di Siviglia proprio dove è stato catturato ieri in serata dalla polizia spagnola una circostanza valutata anche alla luce di un altro indizio ovvero l'acquisto di un biglietto per Genova che l'uomo avrebbe effettuato il 10 dicembre del 2016, ultima data in cui l'indagato viene localizzato in Italia si avanzò quindi l'ipotesi che Materazzo potesse essersi imbarcato su una nave nel porto di Genova diretto in Spagna alle indagini per la cattura della titante hanno partecipato la squadra mobile e la guardia di finanza di Napoli i carabinieri del rossa a quanto si è preso Materazzo non era in possesso di documenti falsi ma della sua carta di identità con cui si è allontanato dall'Italia potrebbe essere stato un controllo fatto dalla polizia spagnola sul documento che ha portato all'individuazione della titante le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Fragliasso e dai PM Figliolia e De Rensis puntano ora a verificare eventuali complicità ed appoggi di cui la titante potrebbe aver goduto per la fuga dopo l'invio e la traduzione del mandato di arresto europeo le autorità spagnole avranno 10 giorni per consegnare il detenuto che verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia da parte del giudice per le indagini preliminari di Napoli appena rientrato in Italia intanto si svolgerà il 7 febbraio prossimo l'udienza preliminare davanti alla giudice dell'udienza preliminare il Tribunale di Napoli per decidere il rinvio a giudizio di Luca Materazzo con l'accusa di omicidio premeditato Il questore di Napoli Antonio De Jesu e il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri Ubaldo del Monaco si sono recati in visita al giovane Arturo il ragazzo di 17 anni violentemente aggredito da alcuni minori nei pressi di via Foria in Napoli e attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi un incontro piacevole che ha mostrato ai due rappresentanti delle istituzioni la ripresa del coraggioso ragazzo Siamo compiaciuti perché dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista psicologico è un ragazzo che ha ripreso il suo tembro, il suo profilo a noi è fatto molto piacere trovarlo in queste condizioni Era in forma, forte, determinato, consapevole di quello che gli è successo e soprattutto con tanta voglia di riscatto poi brillantemente seguita dalla grande mamma che si ritrova Continua l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto ai fenomeni di recrudescenza criminale che coinvolgono sempre più giovani e giovanissimi con un appello alla cittadinanza per l'anno appena iniziato C'è un impegno e una testimonianza di tutti, non solo a parole ma con i fatti Ci sono 1.500.000 cellulari in questa città Mi chiedo perché non vengono documentati atti di violenza, atti criminali Si possono documentare, vengono inviate le forze di polizia perché è troppo facile indignarsi Bisogna fare qualcosa di concreto, utile, piccole cose Giorni decisivi per la salute del piccolo Luigi Il 14enne ferito alla testa da un proiettile vagante il 24 dicembre scorso a parete nel Casertano mentre era con i suoi amici sul corso principale del paese L'adolescente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Caserta tenuto in coma farmacologico vista la gravità della ferita con il proiettile di grosso calibro si tratta di un calibro 9 che è penetrato nel cervello E' ancora presto per dire se Luigi sia fuori pericolo anche se l'infiammazione al cervello sembra si stia riducendo Mentre Luigi continua a lottare per la vita la comunità cittadina di parete continua a manifestare vicinanza al 14enne e alla sua famiglia E' accaduto con la fiaccolata del 29 dicembre scorso dove hanno preso parte oltre 2.000 persone e anche secondo quanto riferisce il sindaco Pellegrino nella notte di Capodanno quando in molti a suo dire hanno rispettato l'ordinanza anti-botti Il riscontro è arrivato dall'attività di spazzamento delle strade posta in essere dopo i festeggiamenti con gli operatori ecologici che non hanno trovato sulle strade il consueto tappeto di fuochi esplosi ma solo residui di botti non pericolosi come i Bengala Sul fronte delle indagini coordinate alla procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri del reparto territoriale di Aversa non è stato ancora individuato il responsabile del ferimento Continuano gli accertamenti sulle pistole ritrovate a persone residenti nella zona e in altre zone limitrofe per capire se il proiettile estratto dalla testa di Luigi possa corrispondere a qualche arma tra quelle ritirate per gli esami L'ipotesi prevalente è sempre quella che qualcuno possa aver provato l'arma Buona prevenzione, buona informazione, uguale, buona salute A Napoli l'influenza tarda ad arrivare complici le temperature mai rigide di questo inverno che hanno rallentato il propagarsi del virus Secondo gli esperti un vero boom potrà esserci a febbraio con la ripresa a pieno della scuola e quando aumenteranno le piogge Intanto in farmacia i cittadini si tutelano acquistando integratori e vitamine Michele Diorio, presidente di Federfarma Napoli, ai nostri microfoni dà consigli su come prevenire i malanni di stagione Buona la campagna di prevenzione molto molto buona la campagna di informazione che hanno fatto quest'anno i farmacisti anche sull'onda della norma che prevede l'obbligo vaccinale e quindi c'è stata una ricaduta di presa di coscienza da parte del pubblico che è ricorso alla vaccinazione influenzale Le ASL peraltro quest'anno si sono organizzate per tempo contrariamente agli altri anni e quindi l'approccio con il bene vaccino da parte dei cittadini è stato ottimale Mia nonna avrebbe detto lana, latte e letto la regola delle trelle che resta tuttora valida comunque coprirsi bene, mangiare in modo misurato e attento e fare ricorso, ripeto, a un'integrazione alimentare laddove esistono delle carenze Dalla terrorismo nazionale e internazionale alle commissioni tra mafia ed economia inchieste sulla Camorra e le Brigate Rosse il rapimento di Aldo Moro l'attentato a Papa Giovanni Paolo II nel maggio del 1981 sono soltanto alcune tra le inchieste condotte da Ferdinando Imposimato da magistrato scomparso a Roma all'età di 81 anni nativo di Maddaloni, dal 1964 in magistratura nel 1983 l'assassino del fratello Franco sindacalista per mano camorristica alle continue minacce di Cosa Nossa il passaggio in politica, due volte senatore da indipendente nelle fila del Partito Comunista la consulenza alle Nazioni Unite contro il traffico internazionale di droga il rientro in magistratura come presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione la candidatura da parte del Movimento 5 Stelle a Presidente della Repubblica figura impegnata da magistrato in molte delle inchieste per svelare i segreti della Repubblica Italiana si dedicò da scrittore a raccontare i legami tra varie stragi avvenute nel paese da Portella della Ginestra nel 1947 a Capaci e Via D'Amelio nel 1992 i funerali di Ferdinando Imposimato si svolgeranno giovedì 4 gennaio a Roma secondo lo spirito del tema indicato da Papa Francesco per la 51esima Giornata Mondiale della Pace il 23esimo Concerto dell'Epifania in programma il 4 gennaio al Teatro Mediterraneo di Napoli sarà dedicato ai rifugiati e ai migranti e a quel melting pot di culture che forgia l'arte e la musica grande attesa per l'esibizione della cantante indonesiana Angun intervenuta alla conferenza stampa di presentazione questo è il suo messaggio di pace vengo dall'Indonesia che è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo e io ho frequentato una scuola cattolica quando ero bambina perché mio padre mi diceva che la religione è qualcosa di molto personale tra te e Dio c'è un collegamento personale tra una persona e Dio adesso vivo in Francia da oltre 20 anni e anche io sono una specie di immigrata ho deciso di lasciare il mio paese e stabilire la mia vita in un nuovo paese e ho scelto la Francia come casa adesso il mondo sta diventando molto più piccolo e credo che una persona sia un cittadino del mondo abbiamo la possibilità di vivere dove vogliamo e di rispettare naturalmente le tradizioni del paese dove andiamo per me non è importante da dove vieni tu sei mio fratello e mia sorella io voglio che la gente pensi di me la stessa cosa il progetto di raccolta fondi legato al concerto sarà dedicato al restauro dell'iscrizione contenuta nella cappella turbolo della chiesa di Santa Maria la Nova che si presume riferita alla sepoltura di Vlad III conosciuto come Conte Dracula circa il tema migranti intervenuto Giuseppe Reale presidente dell'associazione Oltre il Chiostro che organizza l'evento 250 milioni di uomini e donne sono migranti in questo tempo ed è un'emergenza umanitaria della quale dobbiamo assolutamente farci carico credo che Angun con la sua presenza quale ambasciatrice volontaria della FAO che l'organizzazione dell'ONU che è impegnata nella lotta contro la fama nel mondo sia il testimonial più autorevole del progetto musicale del concerto dell'Epifania giunta alla 23esima edizione e anche di come gli artisti sono i testimonial di una cultura del vivere diverso I saldi di inizio anno in campagna partono ufficialmente il 5 gennaio la conferenza Stato-Regioni ha deciso così a differenza degli altri anni quando la data di partenza prevista del periodo di sconti era tre giorni prima eppure a Napoli qualcuno l'associazione dei commercianti di Via Toledo ha trovato l'escamotage per aggirare le regole e partire con tre giorni di anticipo nascono così i Black Days o meglio il periodo di Aldi chi ha pensato che qualche buon tempone avesse trafugato la S dalle vetrine dei negozi del centro si sbagliava si tratta infatti di una strategia per aggirare l'imposizione sullo slettamento dei saldi quelli veri di cui si è fatta promotrice l'associazione commercianti Via Toledo preseduta da Giuseppe Gian Cristoforo abbiamo pensato di fare questi sconti perché poi sono permessi le vendite promozionali durante questo periodo correttissime perché le vendite promozionali possono essere messe in qualsiasi periodo dell'anno anche prima dei saldi per tanto è correttissimo basta togliere una S a saldi e si può fare sì 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 non è della stessa idea il presidente Confesercenti Napoli, Vincenzo Schiavo assolutamente non è legale lo possono fare soltanto con i loro clienti fidelizzati e non possono assolutamente usare il marchio saldi che è un marchio dello Stato perciò tolgono la S? assolutamente sì sempre come dire un poco furbi ma mi auguro che i consumatori possano capire e da 5 precipitarsi nei negozi per fare i loro acquisti abbiamo fatto un buon primo tempo di buona applicazione ripartenze belenose, cattive e poi invece ho visto un secondo tempo da squadra distratta che ha già anche un po' sulle punte e questo me lo spiego poco e mi preoccupa anche un po' sinceramente abbiamo fatto un brutto secondo tempo dopo un primo tempo secondo me di buon livello perché siamo riusciti a crearci dell'opportunità e non concedere niente quindi il primo tempo la squadra ha fatto e lo doveva fare il secondo tempo no questa squadra ha questi momenti nelle partite ce li aveva due anni fa quest'anno un campionato sta dimostrando di non averli quindi può darsi ci sia anche una radice mentale o non riusciamo a esprimerci su livelli mentali elevatissimi a ripetizione come richiede il calendario oppure diamo più importanza a una manifestazione rispetto alle altre ma non è una squadra che ci infastidisce perché ci toglie il ritmo è una squadra più fisica di noi ci va via spesso con la palla lunga ci stringe a rincorse e poi a differenza delle squadre di questo tipo è una squadra che quando hai possesso palla diventa una squadra che ha buone qualità di pallet è un momento a rischio è un momento a rischio perché è un momento in cui i giocatori vivono con persone in festa e loro invece devono andare a giaro ogni tre giorni noi abbiamo fatto sempre delle buone gare contro il Napoli poi devo dire anche in precedenza quando ero a Genova magari quando non c'era Sarri o c'erano altri allenatori sono sempre state partite equilibrate poi mi è capitato di vincere mi è capitato di perdere anche alcune volte con il Napoli ho sicuramente una lunga tradizione per la maggior parte positiva che parte dal campionato di Serie B che siamo venuti insieme in tutti questi anni devo dire che è un campo che spesso mi ha portato fortuna questa sera però abbiamo giocato una buona gara abbiamo giocato un'ottima gara alla fine credo che il risultato ci stia temevo un po' perché avevamo perso male domenica contro il Cagliari in campionato dopo una serie di risultati importanti però abbiamo fatto a parer mio un'ottima gara sprecando tantissimo e temevo un po' il contraccolpo di questa partita dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia salta il secondo trofeo dopo la Champions quindi anche il trofeo nazionale adesso si deve puntare tutto sullo scudetto e l'Europa League o solo sullo scudetto? secondo me solo sul campionato l'Europa League è un'ottima alternativa però credo che Sarri e la squadra punteranno tutto sul campionato la formazione di ieri sera però fa capire che le riserve del Napoli non hanno quella qualità quella grinta, quella voglia di vincere che hanno poi quei 13 titolari compreso Zierischi 13-14 titolari abbiamo le riserve sono un'alternativa che Sarri ha usato poco quest'anno ma ha fatto bene ad usarle ieri perché se vogliamo puntare al campionato purtroppo non possono giocare sempre gli stessi si deve rinforzare ci vogliono i giocatori come ce l'ha la Juve riserve di grande lusso o altrimenti il Napoli non va mai da nessuna parte anche l'Europa League dovrebbe puntare con qualcosa in più potrebbe un allenatore un po' più obiettivo verso i giocatori così possiamo anche tentare tutte e due le cose un pergamasco che vive a Napoli ormai da quasi 70 anni ieri sera non facevo il tifo per nessuno comunque il futuro della nazionale sarà composto da quattro napoletani e da sette pergamaschi volete i nomi? allora napoletani saranno Donnarum Zappacosta Insigne e Immobile volete sapere i nomi dei pergamaschi? ci sarà Caldara Conti Spinazzola Spinazzola e qualcuno altro che mi sono dimenticato va bene ma lei vivendo a Napoli vive anche il tifo dei napoletani quest'anno il Napoli può arrivare allo Scudetto? se lo Scudetto il Napoli può perdere solo lui perché le altre squadre la Juventus non è è solo l'antagonista è solo la Juventus ma per vincere lo Scudetto per fare qualcosa di buono nel campionato ci vuole la squadra di durata e deve arrivare alla fine come stiamo io non lo so quindi ci sono molti dubbi sicuramente come diceva il collega vanno fatti degli acquisti e poi io personalmente penso che i calciatori dovrebbero individualmente impegnarsi di più